TG News Puglia, ogni ora, sulle cronache di me. Ben ritrovati con questo nuovo aggiornamento del TG Flash Puglia in redazione Mimmo Moramarco. Sbarcheranno in Italia i 176 migranti soccorsi dalla OSEAN Viking in due distinte operazioni a largo della Libia. Secondo quanto si apprende, il biminale ha segnato alla nave di SOS Mediterranei e Medici Senza Frontiere il porto di Taranto. La DDA di Lecce ha chiesto rinvio a giudizio di 18 persone, di cui 11 manager Enel e 7 della Cementir di Taranto e delle due stesse società per il lecito amministrativo nell'ambito dell'inchiesta sull'impiego di ceneri della centrale Enel di Cerano, Brindisi, per realizzare cemento. Sono tornati a manifestare sotto la regione Puglia sul lungomare di Bari pescatori di Mola e Monopoli che chiedono di partecipare ai tavoli dove si discute di pesca e di modificare i regolamenti comunitari. Alcune decine di pescatori della provincia di Bari sono tornati così a spiegare le ragioni della loro protesta a soli pochi giorni dalla manifestazione nella quale ci sono stati momenti di tensione. Il prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, ha emesso una interdittiva antimafia nei confronti della società Progetto Finanza di Capitanata SRL che gestisce per conto del Comune di Foggia i servizi cimiteriali. La società con sede nel capoluogo Dauno è attualmente intestata a Riccardo Orsitti e Giorgia Sala mentre soci di maggioranza sono gli imprenditori foggiani Giovanni Tresciuglio e Marco Insalata entrambi amministratori dell'Adriatica Servizi e della CTM che sono state oggetto qualche settimana fa di altre interdittive antimafia. Ed è tutto per questo aggiornamento del TG Flash Puglia da Mimmo Moramarco la redazione Appuntamento al prossimo